Nooo Ti ha preso? Nooo Scegli la porta giusta Hagiwagi gigante Sembra un gatto qui Benvenuti a salita stessa Oggi dovremmo scappare dalla testa di Hagiwagi Dalla testa di Hagiwagi Vi ricordate il gameplay in cui dovevamo scappare da una testa gigante? Sì non so era un po' strano Questa volta scapperemo dalla testa di Hagiwagi Lasciate un bel mi piace perché se questo video raggiunge i 10.000 mi piace faremo un altro episodio con Hagiwagi Mettetemi comodi, prendete i popcorner e li siamo subito Ok iniziamo Ecco guarda Che cosa? Vedi guarda guarda Qua c'è il labirinto con tutte le teste C'è più di una testa di Hagiwagi Chi vincerà secondo voi in questa super challenge? Vincerò io o vincerà vitale? Quante volte si sfraccellerà? Eeeh annuncio importante Se non avete visto il video annuncio è uscito Il mio libro c'è E' in pre-ordine adesso Storie paurose Storie paurose a scuola di misteri Per i primissimi che ordinano Riceverete assieme al libro Anche una cartolina firmata e autografata da me Vitale Pre-ordinate subito il libro Lo trovate in pre-ordine su Amazon Pronti Ecco qua la testa di Hagiwagi Scappa dalla testa di Hagiwagi E' bruttissimo Via via Vediamo se questo Ah Sarà più facile o più difficile Rispetto a quella testa stranissima Che cosa so questo? Che cosa sono palline di gelato? Buono mi piace il gelato Aiuta non si capisce niente Ci sono un sacco di ponte Vai Siamo scappati Wow Come funziona? Siamo riusciti a passare il primo stage Dove sei? Ehi Vitale mi ha superato Non ci credo Ah 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 Hagiwagi 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 Wow che figo E' bellissimo questo gioco No vabbè dai corri corri Wow Attenta che lì si salta Questo è tipo un tappeto Un tappeto elastico Un tappeto saltante Siamo riusciti a passare il primo stage Non so neanche io come abbiamo fatto così velocemente Why? Dove sei? Sono qua sotto Hello Hello Eccoci 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 Attento io passo di qua Ok Ehi ma che fa quell'agiwagi Si è puntato su qui Attenta attenta Ah appena ha sfracellato qualcuno Attenta c'è un aghiwagi qui Non so come ho fatto a scampare Ah Alla testa di aghiwagi Ehi si può anche salire sui muri Hai visto? Davvero? Eh no Non so come ho fatto a salire Attenta qui c'è un aghiwagi Se stai venendo dietro di me Si lo vedi? Brava Aiuto Corri 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 vitale e avanti Devo superarlo Ci sono le scale rosse Sali qui Oh no Aiuto che paura Che brutto Ci sono anche kissy missy In questi stage Attenta Attenta Sono qui Ce ne sono tanti Che brutta Aiuto Ehi ce la stiamo cavando piuttosto bene Al contrario di questo giocatore Si è super sfragellato Aiuto C'è riuscita? No Stavo per prendere Dai dai sali su brava 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 Un altro labirinto E ora Dove stai andando? Di qua Aiuto Tiri tiri Ah Dove dobbiamo andare qua Presto sali in questa scala rossa Sei strè Oh perché Non resta salire Nooo Ti ha preso Nooo Attenta Aiuto ho fatto il respawn Però mi sto prendendo di nuovo Aiuto Dai ce la puoi farcela Sono qua sopra Corri Corri Non mi ricordo dove era quella Dai dai sei vicina sei vicina Scappa scappa Vai 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 scappa scappa Sei vicina sei vicina Dove? Dove devo andare? Devi venire proprio qui dove c'è lui Io ti vedo dall'alto Mi ha bloccato qua Huggy Wuggy mi ha bloccato qua Aspetta Ah si infatti è vero Provo ad allontanarlo io Dai Tu sei pronta? No non sacrificarti No 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 Attanto io scendo dalle scale Che me frega Dai 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 Sei pronta? Ok forse lo stai attirando Si Devo spostarmi un pochino No è ancora lì che mi guarda Attento Non farmi prendere Scappa 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 Devi scappare devi scappare No Ti ha preso di nuovo Ma no Scappa 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 Aiuto dove devo andare non capisco Allora vediamo se riesco a guidarti io da qua sopra Si dimmi dove devo andare Eh si lui ti sta bloccando la strada proprio Oh no Aspetta eh Da questa parte bravissima bravissima Vieni 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 Attenta spiegati che sta arrivando Huggy Wuggy Ce l'hai fatta? Brava Brava Non riesco a salire Devi per forza salire da qui Non posso più scendere Non posso più scendere Eh lo so lo so lo so Aspetta Provo a distrarlo Vediamo se riesco a distrarlo io Oh no È là sotto che mi aspetta Tipo un coccodrillo Ok sei andato Dai salta Presto Brava Oh brava Andiamo No Perché non sale Perché non sale Oh no Dai dai vai dritta così Brava 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 Ok È stato super Difficilissimo Difficilissimo Immagino che sarà sempre più difficile Eh sì Questo sembra Huggy Wuggy Sì In effetti è Huggy Wuggy Oh no Era un piccolo cieco Allora vediamo da cosa dare Ok si può saltare sulla testa di Huggy Wuggy Proprio sopra la testa Figo Non può prenderti Quindi nel caso che ti ritrovi in casa Nooo Mi ha preso Nooo Abbiamo perso Vitale Poverino Che brutto questo Huggy Wuggy Per fortuna Corri 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 Ehi dove sei? Non lo so da qualche parte qui Qua c'è una freccia Ci siamo persi di vista Dove sei Anita? Non lo so tu dove sei Io sono vicino allo stage 4 Spero sia questa la strada Attenta Oh no Sono tornata indietro Vai da lì Vai da lì Vai da lì Salta salta Attenta qui ce ne dovrebbe essere un altro Vai tutto dritto a destra A destra a destra a destra a destra a destra lì Brava brava Ok E adesso dentro quella porta vai Sì Abbiamo sperato che c'è Huggy Wuggy Sì Sei qui forse sei qui Che bravi Eccoli brava Andiamo Stage 4 stiamo fortissimi Guarda nello stage 4 c'è proprio la casa di Huggy Wuggy Vedi? Sì sì Saliamo? C'è non la casa la fabbrica dei giocattoli Non è proprio la sua casa Cioè sì è la sua casa Ma sono un po' incastrato qui nei pacchi Ehi ma siamo tipo nella fogna di Huggy Wuggy Ah che bello Aiuto Dove andiamo? Dove sei? Oh no ti ha preso Aiuto mi stanno inseguendo due Huggy Wuggy Pensavo fosse un vicolo cieco Per fortuna da qua riesco a scappare Ah ah non mi puoi prendere da qua perché la testa è troppo gigante Huggy Wuggy Ah ah peggio per te E' un labirinto Non so da che parte devo andare Qua c'è la scala ma forse sono arrivata da qua Proviamo a passare qua Non capisco più niente Dove mi sentirei andare? Oh oh Ci sono Huggy Wuggy intorno a me dappertutto Tu dove sei finito? Eh sono qui qualche sotterraneo Non lo so Una prigione con un Huggy Wuggy dentro E infatti anch'io sono lì Nooo Questo è un piccolo cieco Ma insomma dov'è l'uscita? Hai trovato l'uscita? Ma forse Ma forse è la scala da dove siamo arrivati No no Perché è nera ed è in alto Si ce l'ho fatta Non ci credo Come hai fatto? Io non trovo la strada Allora vedi ti faccio aspetta che ti guido io Eccola Grazie a Vitale No devi saltare Abbiamo trovato la strada Era difficilissimo Ciao ciao E spero che sia la strada giusta però C'è scritto Scegli la porta giusta Quale sarà la porta giusta? Mi ricorda l'altro gioco che abbiamo provato Scegli la porta giusta Ma sono tantissime Come scegliamo? Non lo so Proviamo questa Sei andata in quella? Si era quella giusta Wow brava Come abbiamo fatto? Non lo so Stage 5 Eh Non sei riuscito a passare eh Vediamo cosa ci aspetta nello stage 5 Cosa c'è qui? Una corda Eh Ah attenta Qua c'è una trappola Attenta che è piena di aghi wagi qua Si eh ci sono anche delle trappole Non le avevo viste Che brutte Oh no diventa molto più difficile adesso Ci sono varie punte che girano Come si fa con queste trappole? Devi stare super attento Nooo Mi ha preso No povero Vitale Spero sia la strada giù Sta E queste trappole come funzionano? Devi stare molto molto attento a non farti prendere Diventa sempre più difficile Però è divertente Molto Anche se è un po' Fa paura Ma a noi piacciono le cose che fanno pa- Non mi dire che questo è un piccolo cieco Ehm Prima di sfracellarmi Dicevo A noi piacciono le cose che fanno paura E infatti avete già preso il libro Storie paurose a scuola di misteri Ci saranno varie creature che vi piacciono molto E che piacciono anche a me Attenzione Se la vostra creatura preferite vi do un piccolo spoiler Una delle creature è un lupo mannaro Non vi dico altro però Ma nei video ci sono vari spoiler In questi ultimi video ci sono vari spoiler Quindi se volete saperne di più andate a vedere anche gli altri video Come faccio a passare da qua Vabbè ci provo C'è un aggy waggy Aiuto Se riesco a superare questo stage Sarà un miracolo C'è una luce qui Dobbiamo andare qui forse Sì stage save Non ci credo Guarda Ma tu come fai sempre a superare tutti i stage Perché sono troppo forte Vai 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 Quella lì è la strada giusta Ok Penso Ho paura di essermi persa No io non avevo tutti questi i corridoi E con la luce Forse è quella A meno che non sono tornata all'entrata Sì sei tornata all'entrata No non ci credo Dai 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 Ho trovato la porta Ho trovato la porta Brava Anita Stage save Guarda Haki wagi gigante Sembra un gatto qui Wow è difficilissimo Dei fantasmi Sembra uno stage di super mario questo È stranissimo Però è fighissimo Wow Vedi ci sono i mattoncini tipo super mario Wow Ovviamente Haki wagi non manca mai Eccone qua 500.000 Oh no e adesso Ma si sono messi tutti lì alla porta Sono un po' arrabbiati No È difficilissimo Ce l'ho fatta Non ci credo Em 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 Attento 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 Non farti prendere dagli uagi wagi Eh eh Io sono già avanti Ah Laggiù c'è Un mostro finale mi sembra Aiuto Non capisco Non capisco dove escono questi Ok via Ci sei? Sì Sono dietro di te Wow In questi giochi difficilissimi Invece di essere in competizione Io e Vitale siamo in squadra Perché è troppo difficile Dai Corri perché sono tutti qua vicino alla porta Ci sei? Oh no Li dobbiamo distrarre in qualche modo Attento 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 Ok ne manca uno da distrarre È scomparso Dai 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 vieni Ok vai Brava Sì sì No Non ci credo Allora bisogna stare attenti Non prendere i pulsanti Non prendere i pulsanti Attento perché anche i fantasmi ti spingono Oh no È veramente difficilissima Sempre più difficile Sì Allora qui possiamo salvare Credo Spero di sì Attenta gli uagi wagi Qua stanno sparando vento Oh no E qua come passiamo? No Mi sta trascinando Devi stare attento Devi saltare in continuazione Devi stare super attento Sì 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 Sono dietro di te Dai puoi farcelo Sono dietro di te Ok ce l'abbiamo fatta E ora? Dobbiamo scegliere la strada giusta Oh oh Proviamo a vedere se possiamo attraverso qua È veramente difficilissimo Oh no Vado Seguiamo gli altri Ah vedi scompaiono dopo un po' No Sono caduto Vitale Io ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Dai Vitale puoi farcela Lasciate un mi piace per portare fortuna a Vitale Ecco Vitale Dai puoi farcela E che cos'è questo adesso? Wow Sembra molto Il pavimento è lava e ci sono anche diecimila trappole Ah ah Nooo Si è andato proprio contro la trappola Ma perché mi spingeva il vento Dibo Si si muove in modo strano Nooo Anche a te Ok riproviamo ma è veramente Dobbiamo stare super attenti Difficilissima questa escape room Ce l'hai fatta? Ti trascina Bisogna saltare 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 Così non vieni trascinato Dai salta in continuazione È quello che sto facendo Wow Questa escape room è davvero difficoltà 10 Ma è difficilissimo Qua ci sono tutti questi oggetti che volano No vabbè No Impossibile Bisogna stare super attenti Nooo Mi ha solo gellato Ragazzi purtroppo non riusciamo a passare questo stage È troppo difficile Ma se questo video raggiunge i diecimila mi piace Riproveremo un altro video Lo continuiamo E vi ricordo di preordinarie Preordinarie Storie paurose a scuola di misteri Così riceverete anche la cartolina firmata Solo per i primi che ordinano il libro E adesso vi lasciamo quattro caselline Su cui cliccare per vedere i nostri altri video Cliccate su quella che preferite E buona visione Ciao